Bella ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio della lo sai fare challenge Vi dico già da subito, suggeritemi qua sotto nei commenti se ci siete riusciti a fare quella degli episodi precedenti E soprattutto suggeritemi qua sotto nei commenti altri esercizi da fare che voglio seguire anche i vostri consigli Anche se ho già qualcos'altro in mente E ora ragazzi, partiamo col video! Passiamo al terzo esercizio dove bisognerà con il braccio sinistro muoverlo in avanti E contemporaneamente il braccio indietro, il braccio destro indietro Capito? Quindi così È infatti difficile Ma aspetta eh Ok È meglio? Ok, forse ci siamo Ok, va bene? Non ho capito? Vieni ceci Guarda che vuoi, dopo papi ti sfido anche te Siamo pronti Allora, mano sinistra Davanti o dietro? Davanti Davanti E mano destra Dietro Allora Aspetta 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 Avanti e indietro Avanti e indietro Avanti e indietro Tra avanti e indietro Tra avanti Tra avanti Tra avanti Tra avanti Tra avanti Tra avanti Ehi Stai prendendo i vetri Non ce la faccia Non ce la faccia Felicino Prosta Prima la Lisa Dai Io Felicino Da pollicato Oddio Guarda che hai fatto Luca Eh, magia Vediamo la Lisa Vai eh Lisa dai Vai Lisa E' un rastrello Dai Lisa Dai Spagno Anche ci sei Mica giusto No È tutto all'indietro Tutto all'indietro Allora Allora andavanti Dai Lisa vai Avanti Un'indietro E un'avanti C'era quasi Così è Dai Lisa Questa è Questa è Sembravissima Non ce l'hai incontrato Diceva che era facile Ma Non ce l'avevi fatto Sembrava Sì Tempura di vetri Dalla macchina Metti la cera un po' di la cera Vai Lisa Un colpo Eh adesso Tac e tac No Lisa ci sei? Più o meno si è Brava Lisa è giusto Tu mi metti le cose Basta Brava Lisa Golden Butter Golden Butter Facilissimo Quindi braccio che gira di qua Giusto? E l'altro Indietro Però insieme Sì E questo così Sì Questo così Sei un po' in difficoltà Allora Questo così Questo così Sì 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 Però insieme Insieme Bravo Bravo Stai sbagliato Hai sbagliato No 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 Mi vado a confondere Così E questo così Però Non mi devo fermare Ok Allora Un attimo Concentrazione Velocità Velocità Luca Ci sono È più veloce o veloce Ci sono Giusto Sì Più veloce Ci sono Un pazzo Però Vai Niente Ci sono Sì Sì È fatta Yes È fatta Oddio Oddio Volevamo fregarlo Invece Non l'abbiamo fregato Eccomi qua ragazzi Sto vincendo Io la sfida Comunque È la seconda Elisa Anche per questo episodio Non è stato Molto semplice Mi raccomando Voi da casa Scrivetemi qua sotto Nei commenti Se vi siete divertiti Anche per questo episodio Perché a me Piace veramente Tanto Farvi divertire Strappare di quei minuti Di allegria Qua sotto nei commenti Altri esercizi Da fare Nel prossimo episodio Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Facebook Instagram E Twitter Li trovate in descrizione E anche In facebook Luca Dimo Che mi fa Le miniature Grazie Luca Al prossimo appuntamento Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao belli Ciao Clark h